Mi premea sottolineare il contributo prezioso proprio di Salvatore per questa serata, dove quindi lanciare proprio la nostra proposta, stiamo attendendo anche l'arrivo del senatore Aragri e del candidato alle europee Fabio Armeni, proprio perché chiederemo un impegno ufficiale anche di poter contribuire nell'eventualità, noi dovessimo arrivare a governare di Fabio Armeni che possa arrivare al Parlamento europeo, quindi avere la possibilità di usufruire di questi fondi europei un impegno specifico anche dalla Regione Lazio, anche con un supporto ovviamente sovracomunale perché il rilascio di una struttura non è una passeggiata, richiede un iter burocratico che poi Salvatore in quanto tecnico spiegherà nei dettagli. Però questa è fondamentale, proprio l'importanza, anche i manifesti che abbiamo affisso in città proprio in questi giorni a firma di Forza Italia, Giovani Italia, Movimento Per e Frascati Futura. Colgo quindi l'occasione anche per ringraziare la coordinatrice di Forza Italia Anna Delle Chiaie, il coordinatore della lista Frascati Futura Massimo Garzaneo e la coordinatrice della Giovani Italia Simona Mollo. Quindi ecco, mi fa piacere, era doveroso quindi ringraziare i coordinatori, un ringraziamento a tutti i candidati che vedo presenti qui in sala, un ringraziamento a tutti voi. Adesso lascerò la parola a Salvatore e poi rifaremo ulteriori interventi al termine. Grazie di tutto. Grazie. Grazie. Grazie.